Siamo affidati ai nostri genitori, in cui abbiamo chiesto a nostro padre e a nostra madre qualcosa e abbiamo saputo aspettare quando ce l'hanno data, fidandoci fermamente che ce lo dà. E tutte quelle nostre esperienze che abbiamo fatto e che facciamo a Natale, aspettando Babbo Natale da bambino, vedete, Babbo Natale non è un qualcosa di fuori luogo, è un'esperienza notevole di desiderare, aspettare ed essere ricompensati. Quindi desidero, mi affido e credo fermamente che Babbo Natale mi darà quello che ho chiesto. Ora si capiscono tante cose con la Janne. E se non me lo dà Babbo Natale, stranamente questa esperienza di Babbo Natale, ben veicolata dai genitori, mi aiuta poi ad accettare qualunque risposta la vita mi può dare. Lì che impariamo, eh, a campare. Sia Babbo Natale che la Befana ci aiutano molto. Vedete come funziona la religione? Funziona così, con questi riti. Questi riti ci abituano a fare esperienze privilegiate, per cui qualcuno da grande è più in grado di un altro rispetto a un altro a fare con queste cose. E' qui che impariamo. stops Jeder 2 7 9 10 9